Ho sempre sognato di diventare un campione, davanti a tutto, davanti ad ogni ostacolo, ad ogni sfida. Mi guardo allo specchio e penso che il traguardo è vicino. Ma è nell'acqua che ho trovato la mia dimensione. Prepararsi per vincere, perché ce la posso fare, perché tutti ce la possiamo fare. Lignano, il prossimo 24 e 27 di mei, la World Paraswimming World Series.